Ciao, sono Tava Sbarazza di Agefarm. Abbiamo messo in piedi questo piccolo flusso di contenuti, di riflessioni da parte di amici del network di farm, di Maze e Rob Walcott e il Twin, ci sono sembrati subito il partner ideale con cui portare avanti questa iniziativa. L'idea non è tanto di riflettere su quello che è, sulle statistiche, sull'immediato, sulla crisi, sul dramma, sulla ripartenza, tutte cose molto importanti, ma cercare un pochino invece di alzare un po' la prospettiva e di fare anche un ragionamento un po' più intimo, di provare a vedere che effetti vediamo su di noi o su quello che pensiamo in qualche modo potrà essere un effetto per l'organizzazione, per la società nell'insieme. Ed un primo che mi viene in mente è legato al pensiero che abbiamo su quello che stiamo facendo, sul nostro futuro. Io penso che per molti di noi aspetti come il lavoro, la crescita, il benessere, il futuro, siamo sempre stati un po' più legati al quando si realizzavano più che non se le sere si realizzavano. I nostri dubbi erano più su quell'aspetto che era tutto molto più scontato, molto più diciamo meno in discussione. Oggi per la prima volta invece abbiamo paura che queste cose possano non realizzarsi, che possiamo perdere quello che abbiamo, che possiamo non realizzare quello che avremmo voluto fare. Un po' come se fossero dei castelli di sabbia che si sciolgono nel mare, come nella canzone di Hendrix, che tradimento l'altro giorno mi ha sbuccato fuori mentre stavo correndo, stavo riflettendo a tutto questo. In qualche modo mi ha fatto piangere, mi ha fatto pensare che potevo veramente perdere o non realizzare quello che avrei voluto fare. Quindi se usciremo da questa situazione con delle cicatrici e niente più, io penso e spero che sarà così, avremo un'energia per ricostruire e sapremo apprezzare quello che abbiamo e quello che vogliamo fare che ci spingerà ad essere molto molto più positivi e più consapevoli anche delle fortime che abbiamo. Il secondo aspetto è legato alla dimensione sociale, a quello che noi in qualche modo siamo nel rapporto con gli altri, al fatto che ci manchi il rapporto con gli altri, con i colleghi, con gli amici, con le persone che incontriamo quotidianamente e anche al fatto che in qualche modo oggi, essendone così in maniera così drammatica, privati, ci rendiamo conto quanto ci manchi questo aspetto. Ecco, probabilmente questo potrà portare anche un cambiamento. Ci sono già dei segnali in questo senso, anche in positivo, di maggiore tolleranza, di maggiore comprensione, di maggior interesse, di maggior solidarietà e questo speriamo sia un effetto positivo che ci porteremo a casa da questa situazione oggi abbastanza drammatica. Infine, un ultimo segnale che colgo da questa situazione è quello legato al coraggio di cambiare. Per anni abbiamo tutti vissuto situazioni in cui vedevamo grande necessità di cambiamento di innovazione in tantissimi contesti ed eravamo sempre di fronte a una situazione di impossibilità. C'erano mille vincoli, mille muri, mille barriere, sembrava tutto impossibile. Oggi improvvisamente siamo stati travolti e abbiamo capito che in realtà tanto si poteva fare. Molte cose che erano impossibili prima, oggi sono state improvvisamente possibili. Ci sono fatte in pochissimo tempo cambiamenti incredibili. Gli insegnanti improvvisamente hanno imparato a utilizzare la tecnologia in un modo che non era minimamente prevedibile o che tutti ritenevano assolutamente impensabile. Aziende hanno remotizzato completamente la forza lavoro e anche questo sembrava impossibile. E stanno andando avanti e stanno funzionando. Servizi da parte della pubblica amministrazione o da parte di grandi organizzazioni sono stati ripensati mettendo il cittadino al centro. Ecco, se sapremo tenere questa forza di cambiamento, questa consapevolezza sul fatto che certi vincoli che abbiamo sempre percepito sono in realtà più nella nostra testa che nei fatti, usciremo da questa situazione con una forza, una capacità di affrontare il cambiamento consapevoli del fatto che si può fare.